bella a tutti ragazzi sono stelzio adere better sul mio canale siamo tornati col mondiale come ogni giorno ragazzi oggi è il momento di tunisia inghilterra giocherà alla volvograd polgograd arena alle 21 come se ho messo giusto l'orario se l'ho messo giusto ragazzi anche qui pubblicato il sondaggio ecco lo screen per voi vittoria schiacciante l'inghilterra qui giochiamo con l'inghilterra state pronti ragazzi seguitemi su instagram per i sondaggi gli indirizzi dei individui trovate sempre e niente ragazzi andiamo a fare la nostra formazione con bootland in porta rose cagli il stonzo spalling jones walker anderson die pensavo fosse alio sterling sterling mi piace di più rush for dovardi rush for the king è intoccabile ragazzi direi andare avete insomma visto anche gli altri prognostici spero se mi seguite da un po se siete nuovi ragazzi va a sapere il canale guardate la playlist dei mondiali della playlist oddio come si chiama però se ci partite trovate tutto quello che possiate cercare del mondiale fino adesso stiamo per vivere una partita internazionale che può regalare un grandissimo spettacolo è tutto pronto un saluto la piero ci parlo stefano nava la carta questo è un grande match qui è ok volo gradarena ragazzi credo che se lo stavete si è giocato anche peru no peru ma non voglio andarci su questo è l'inizio del 2018 del mondiale è l'unico tra questi paesi a non aver mai ospitato l'importante rassegna calcistica sia a livello continentale che mondiale si sclude la confederations cup disputata nel 2017 no ma non credo che ci sia un altro stadio mentre ragazzi io credo che sarà una partita piuttosto facile ma non voglio darmi la zappa sui piedi però ragazzi che grandi difficoltà non dovremo incontrarne in questa partita ragazzi appena mangiato neanche i 10 di mattina sono già qua registrare perché sono in ritardo coi tempi ragazzi comunque ci vediamo tutti l'altra maglietta della collezione adalanta link qua sopra ragazzi se volete vedere la mia collezione di magliette questo ragazzo ufficiale usato in campo beata notte dalla ok ragazzi voglio vedere la formazione loro se conosco almeno qualcuno qualche critica di troppo per atteggiamento eccessivamente rinuncetare di questa squadra di oggi insomma non sembra naga sberano one ben nusuf ma lui sassi ben nusuf ma lui sassi ben nusuf badri, cantri, slity ma mia che non e kali, califa davanti in sostanza conosco solo i direzioni ecco i nostri 5-3-2 per loro sembra che l'allenatore parte innanzitutto per difendersi 5-2-1-2 5-3-2 sì speriamo neri che ragazzi là davanti ci possa regalare le soddisfazioni e ok batte la Tunisia insieme a califa subito subito la Tunisia destro dopo più minuti ragazzi bussa già alla nostra porta dunque in trambi sensi attenzione a slity slity sul fondo bravissimo Wutland il partitore recuperato casri attenzione è aperta la nostra difesa casri casri bravo opporsi Dyer e si va al calcio d'angolo che sempre casri va a battere palla dentro Sterling bravissimo ha passato a Rashford sul lato di destra Rashford Dyer Dyer 23 minuti per fare gol contro la Tunisia ma ce l'abbiamo fatta Dyer la sblocca molto bendito non c'è capito gol normalissimo non sapevo se tirare direttamente con con Rashford oppure passare tu sai ce la passo vabbè fatto sta 23 minuti ragazzi 1-0 per per Sterling Sterling e il calopato di Sterling Sterling destro bravissimo il portiere bravissimo il portiere evidentemente arrabbiato con i suoi ma Rashford smalling ma troppo debole più di fare le mani di matruti non voglio sapere come si chiama Kane dentro non va Sterling Rashford Rashford troppo debole e centrale matruti destro cazzo ma come si fa ma come si fa ma come si fa pareggio in la Tunisia il 42esimo l'ultimo recupero per favore regalaci un gol regalaci un gol Kane è da fare contropiede della Tunisia l'avessi fatto anche prima questo intervento si va a riposo ragazzi 1-1 inmeritato ragazzi io voglio vedere cioè 5 tiri a 3 per noi un tiro importa a loro quanto tiri importa a noi 3-4 quel che erano e ovviamente chi ce l'ha lì siamo noi e si riparte Ederson troppo debole Rose che dribbling che dribbling che dribbling Rose mamma mia che tiracci che facciamo ok ok c'era un mezzo totta la più squadra un gol ci si può fare no attenzione attenzione califa butti attenzione attenzione a Schraffi mamma mia lo stavamo per prendere lo stavamo per prendere lo stavamo per prendere vai lì per smogli Sterling Sterling ah sarà con Henry Kane doveva battersi sulla ripresa avversaria e invece sta faticando parecchio palla dentro rete rete appena cambiato modulo 4-3-3 4-3-3 la palla entra Gary Kyrill 2-1 al 69 al 70 al 69 al 70 ragazzi un'impresa un'impresa prima mezzo al 4-3-3 levata questa difesaccia a 5 senza comunicazione centrocampo attacco Kyle la mette dentro lui finalmente raga finalmente sono a Schraffi uh bootland qua dentro c'è Sterling fuori gioco queste mosche Kane Ali 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 sul primo palo 3-1 delle alle seconda partita che gioco con le squadre ragazzi seconda volta che mi segna un gol importante l'altra qual era il link qua sopra 80 84 cioè ragazzi era anche l'ora eh appoggiata sul primo palo una sudata eh farlo però l'appoggia lì delle ali 3-1 raga 3-1 raga si aprono i mazzini invitanti casri casri puntuale quindi difensore nel recupero attenzione ancora la palla dentro c'è il gol 3-2 recupero scaduto altra dormita difensiva andate qua ragazzi andate qua proprio a farfalle smallling no non smallling lui numero 2 vabbè ragazzi meno male abbiamo fatto il terzo con Ali e finisce qui finisce qui ragazzi finisce 3-2 partita che proprio non sa di nulla 3-2 per cui ce ne finisce tante altre però ragazzi veramente non sa di nulla buttata via però il rapporto è un risultato possibilissimo partita che a me non ha regalato emozioni ammestamente meno male Bianca Lille aveva avuto questa idea di cambiare il modulo e far entrare lì sarei che ho avuto tornare con difesa 5 poi magari sul 3-1 beh ragazzi voglio vedere le statistiche tiri 10-7 per noi 9-4 in porta 9-9 tiri a porta 3 gol 4-3 in porta 2 gol sono le cose pienamente ingiuste di tifo ragazzi però non ci si può proprio fare niente è un muro dove invece devi sbattere la testa per forza a me vi saluto ci vediamo alla prossima domani con Colombia e Giappone vi saluto bacione a tutti lasciatela che scrivete di supportarmi il lavoro che sto facendo per i mondiali per voi ciao a tutti ragazzi grazie